Pronti? Uno, due, tre. Buona la prima, con veloce Vico del Ronco che prende la testa nei confronti di Boreagal, poi Attila, quindi Becky Black Dante, mentre ha sbagliato Brivido Rich. Numero 7, Brivido Rich, squalificato. Zingaro Gad, Vico del Ronco che dopo aver preso la testa inizia ad accelerare in progressione per impostare il percorso d'avanguardia. Vico in vantaggio, Boreagal in seconda posizione, poi Attila, quindi Becky Black Dante, Zingaro Gad, mentre muove con decisione. Creso Risai a TRGF che si trascina a Camelo Terre che anticipa Balsamo Leone, quindi Blef dei Greppi, Zeno del Ronco. 32,9, i lenti 400 metri iniziali. Creso Risai a TRGF che ha l'opportunità di fare il suo percorso preferito, quello a lato del Battistrada. 600 metri in 48,9, Vico del Ronco all'avanguardia. Di fuori c'è Creso Risai a seconda pariglia per Camelo Terre, in corda Boreagal, poi ancora Attila, quindi Balsamo Leone. Blef dei Greppi che va a fare la terza pariglia anticipando le mosse di Zeno del Ronco. 36, secondo quarto di gara, ovviamente più svelto. Inizia a camminare con all'avanguardia Vico del Ronco. Creso Risai a di fuori Camelo Terre in pariglia, la corda Boreagal. La metà gara se ne va in 1,18,9. Vico che guida di fuori Creso, poi Boreagal, quindi Camelo Terre, Blef dei Greppi che precede Zeno del Ronco. Terzo in corda è Attila, poi Balsamo Leone, quindi Becky Black, Dante e Zingaro Gad davanti alle tribune. Una frazione in 15,2 con Creso Risai a che appariglia completamente Vico del Ronco. Per ora però non mette ancora il piede sull'acceleratore Matteo Zaccherini. Così si prosegue di conserva, 600 dal palo. La mossa in mezzo alla pista da parte di Zeno del Ronco. 15,5 alla curva di destra. Ora Creso Risai inizia ad accelerare. Arriva Zeno del Ronco in mezzo alla pista. Vico cerca di difendersi al comando. Creso Risai a di fuori. Zeno del Ronco dà il parziale. In terza corsia Creso Risai a mette qualcosa avanti. a Vico del Ronco che con la curva prova a rientrare. 14,6, 2,4,2. Il miglio Creso Risai è Vico del Ronco. In terza c'è Zeno del Ronco. A metà della piegata conclusiva anche Camelotterre sui primi. Vico del Ronco ancora in vantaggio. Creso Risai a prova ancora a largo. Zeno del Ronco. Vico del Ronco che riparte a largo. Creso Risai in mezzo alla pista. Zeno. Zeno del Ronco che va su Vico del Ronco. Vico del Ronco si difende. Zeno del Ronco attacca all'altro a largo. Zeno del Ronco che viene a vincere nei confronti di Vico del Ronco che è secondo. Al terzo Creso Risai a TRGF. 29 la chiusa. 1,17,2 per la testa. Vale molto meno ovviamente per il vincitore Zeno del Ronco. Matteo Angeloni in Salchi per il training di Felice Facci. I colori della scuderia Tatu. Il numero 10 Zeno del Ronco che vince il trofeo Croce Rossa Italiana. Al secondo Vico del Ronco in percorso di testa. Al terzo Creso Risai a TRGF che se l'è fatta a largo ha combattuto con Vico. Ha perso la lotta personale ma entrambi hanno perso dal parziale di Zeno del Ronco che a largo di tutti li ha giustiziati. Matteo Angeloni vince il trofeo Croce Rossa Italiana 2023. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.